Il corvo nero, nero, nevo schiavo di questo castello, sono un corvo tramutato in un corvo, prima ero un umano tramutato in un corvo e ora faccio lo schiavo per questo castello, del conte Lucanor. Schiavo di merda! Abbasso lo schiavismo comunque. No, 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 odio lo schiavismo, era tutta l'ordine un videogioco, eh. Il conte di Lucanor per chi non lo conoscesse. Oh? So di stanze. Se ne parlerebbe nel 2021. Se ne parlerebbe ovviamente a fine pandemia, ehm, oh. Xandred sottolineatura casea donato. Due euro. Sdrumi sono pugliese in lavoro in un tarallificio e ti posso dire che i taralli sono nati col finocchietto. Pedi? Eh, ma non vuol dire che se sono nati col finocchietto non sono quelli belli. Ti dico che il genere umano è nato da una razza nera. E quindi? Un dato di fatto. Ho dato un dato storico. Il genere umano è nato da una... Adesso siamo bianchi. Eh, ma lui... Questo non vuol dire... Le cose cambiano. Le cose cambiano. Le cose cambiano. Con la peluria. Tutte predisposte alla sopravvivenza all'era glaciale. Vabbè. Quindi tutto qua, ragazzi. Vi è piaciuta? Sì, comunque ho visto un bel po' di gente hypata. No, non è il Jojo, perché il Jojo saremo da soli.